Previsioni per oggi. Al mattino, in pianura, schiarite ma con transito di velature. In montagna, schiarite ma con transito di velature. Nel pomeriggio, in pianura, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, cielo nuvoloso con qualche breve schiarita. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Nel pomeriggio, in pianura, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse.